Uno dei più grandi desideri umani è quello di aiutare gli altri, ma spesso ci chiediamo come possiamo farlo, soprattutto quando l'altro vive lontano da noi. Fino a pochi anni fa, con gli obiettivi del millennio dell'ONU, la logica era quella dell'aiuto dei paesi ricchi ai paesi poveri. Questa modalità però ha dimostrato di non funzionare e ha portato al fallimento numerose iniziative. La nuova agenda 2030 ha un approccio completamente nuovo. L'ottica è quella del cosviluppo tra i paesi del mondo, dove ciascuno fa la sua parte. Anch'io, prima di partire come volontaria in Kenya con l'ACRI, mi sono chiesta come possiamo aiutare gli altri nel modo più efficace. Questa è stata per me l'occasione per conoscere il significato di empowerment, l'approccio con cui operiamo come facilitatori nelle comunità. Il nostro intervento cerca di promuovere il coinvolgimento, la partecipazione e il senso di responsabilità nelle persone rispetto ai problemi che le riguardano e alle possibili soluzioni. Empowerment significa aiutare l'altro a rafforzare la fiducia in se stesso e nelle proprie capacità e a riconoscere il potere che ha di cambiare le proprie condizioni di vita. Vuol dire anche valorizzare le risorse naturali, le culture locali e favorire l'autosviluppo. Se questa sfida ti appassiona e vuoi essere protagonista del cambiamento, non aspettare, iscriviti subito alla nostra Winter School.